Il popolare iustilist romano rilascia un'intervista alla magazzinenuovo tv.in Una recentissima intervista alla magazzinenuovo tv, P. Conalli è tornato a parlare dell'ex moglietina Cipollari Il popolare iustilista ha rivelato di essere geloso del rapporto della donna, e il suo nuovo compagno Vincenzo Ferrara Il parrucchiere ha confidato di aver conosciuto quest'ultimo che, da alcuni mesi ha fatto tornare il sorriso all'opinionista di uomini e donne Chico, però, ha anche detto di provare ancora un forte sentimento per la madre dei suoi tre figli Chico Nalli parla del rapporto tra Tina e il Vincenzo.Non nego di essere geloso di Vincenzo, ma penso sia più che naturale Ho amato tanto Tina, è stata la donna della mia vita, e vederla andare via abbracciata ad un altro uomo mi ha provocato un tonfo al cuore Ha confidato il romano. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono una coppia a tutti gli effetti da prima dell'estate Da qualche settimana le riviste di gossip parlano di matrimonio, ma, a quando pare sono solo dei rumor senza fondamenta La Vamp vuole conoscerlo in modo più approfondito prima di fare il grande passo. Poi Chico ha ammesso di aver incontrato recentemente Vincenzo e dopo averci parlato a lungo lo ha tranquillizzato Tu sei una brava persona e starai accanto a Tina, ma Chico rimarrà sempre unico e insostituibile Ha dichiarato il parrucchiere romano.Chico Nalli parla del rapporto tra i suoi tre figli e il Vincenzo Ferrara Tina Cipollari e Chico Nalli sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene dei loro tre figli maschi. Francesco, Mattias e Gianluca La justilista ha affermato che quest'ultimi e il Vincenzo Ferrara si sono visti solo una volta presentandolo come un amico Anche su questo delicato argomento stiamo cercando di collaborare per rendere la faccenda il più naturale possibile Ha ribadito l'uomo. E mentre Tina ha trovato l'amore con l'imprenditore fiorentino, il Nalli è tornato single dopo un breve flirt con l'attrice iberica Mirga Arrido Grazie a tutti